Resta in carcere Roberto Ferraci, l'uomo che lo scorso 25 settembre è entrato nel Tribunale Ciglia di Perugia e ha coltellato i giudici Francesca Altrui e Umberto Rana. Lo ha deciso il GIP di Firenze, competente in questo caso. Il giudice per le indagini preliminari Fiorentino ha confermato anche l'ipotesi di reato di tentato omicidio aggravato. La difesa ha presentato però ricorso in riesame.